L'innovazione è nata in azienda, idee di business sostenibili e subito utilizzabili dalla società. Terna premia i progetti messi a punto dai dipendenti con il programma Terna Ideas. Contestualmente lancia una nuova piattaforma aperta anche alle start-up, ai ricercatori e alle PMI innovative. L'obiettivo è quello di identificare soluzioni ed iniziative in grado di contribuire alla transizione energetica. Ad aggiudicarsi l'edizione 2022 sono state tre idee che passano ora alla fase della progettazione. C'è ad esempio The Icing, un progetto per lo scioglimento dei manicotti di ghiaccio che si formano sui conduttori delle linee elettriche. O Terna Reliability, un dispositivo per monitorare i parametri tecnici dei trasformatori. O ad esempio Orion, un algoritmo di intelligenza artificiale che aiuta a migliorare la risoluzione delle immagini satellitari utili ad identificare tempestivamente edifici interferenti con gli elettrodotti. L'edizione 2022 ha visto quest'anno la partecipazione di circa 250 persone, con l'iscrizione di 1.400 persone alla piattaforma. Stefano Donnarumma, amministratore delegato di Terna. È un percorso molto lungo di preparazione che dura mesi, con veramente centinaia di idee, decine di proposte concrete. Quindi le persone che arrivano qui, gli ultimi dieci gruppi, che poi sono i primi dieci, che riescono ad arrivare in questa sala, in questa giornata, sono veramente già stati oggetto di una forte selezione. E arrivano in effetti con progetti esecutivi. Questo è anche molto bello, molto emozionante, perché si vede, per lo più, sono molto giovani. Abbiamo avuto in questo momento, qui sul palco, ragazzi anche di 25-26 anni, che hanno magari un solo anno, se non sei mesi, di Terna, e altri magari un po' più grandi, ma tutti con età veramente molto, molto giovani. Età media bassa che va di pari passo con la preparazione e con una innata propensione alle tecnologie digitali. Devo dirvi che la bellezza del momento è vedere, l'entusiasmo, la passione, ma la preparazione. Questo è stato esattamente il percorso che abbiamo desiderato fare in questi anni. E io oggi vedo realizzato un sogno. Un'azienda che ha un'età inferiore ai 40 anni, con sotto i 30 anni quasi un terzo dell'intera popolazione, nativi digitali che stanno portando in azienda, oltre che un nuovo modo di vedere il futuro, e di immaginarselo anche proprio delle competenze specifiche, che sono tipiche di questa generazione. Per l'edizione 2023, la piattaforma di Terna Ideas si trasforma in uno strumento di open innovation, aperto anche all'ecosistema esterno. Sul nuovo spazio virtuale, ternaideas.terna.it, dal 15 dicembre, Terna lancia una challenge sul tema della Data Science for Resilience, obiettivo sviluppare progetti concreti per l'azienda. Massimiliano Garri, direttore Innovation and Market Solutions di Terna. Terna Ideas nasce con l'intento di creare soluzioni concrete e pratiche ai problemi che deve affrontare Terna. E quindi ad esempio il come gestire al meglio la manutenzione, o ridurre ad esempio i rischi quando lavoriamo sul territorio, ma anche cosa significa portare a casa praticamente anche la conoscenza e la coscienza da parte di tutti gli operatori rispetto al lavoro che fa Terna. Ad esempio l'idea di trovare il modo di comunicare in maniera diversa, attraverso il gioco, attraverso l'engagement, il nostro mestiere. Che significa il mercato elettrico? Che significa scegliere soluzioni giuste? Quindi Terna Ideas non è un concorso di idee e basta. Terna Ideas è un modo per realizzare concretamente quello che migliora il nostro lavoro tutti i giorni e rispetto al futuro che vogliamo costruire per Terna e onestamente per il Paese.